Muffin salati, prosciutto e formaggio, l'idea velocissima e dal profumo irresistibile. Prepariamoli insieme. In una ciotola metti uova, latte, olio di semi e sale. Mescola il tutto con una frusta. Aggiungi farina e lievito istantaneo per torte salate dopo averli setacciati. Per finire aggiungi parmigiano, prosciutto cotto, scamorza o un formaggio filante a piacere. Versa negli stampini per muffin e cuoce in forno prediscaldato statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Se ti è piaciuta la ricetta, salvala e condividila nelle tue storie.